Comanda il piatto, andate su e chiedete che ci prendino a lavorare, un si chiede altro, si vuole lavorare, ragazzi ma si sta scherzando nel 2019, era nel 2005 che vengono lì dentro. Oh Samantici se non ci sarà la vita, il problema è una cosa, o si va davanti a un giudice, se no fate bene a venire, ma si perde il tempo, la fine è noi e noi. E Vigarpa perde il tempo e rompe i cordoni, fino a che è un livello al 9. La legge è nel tribunale, non è qui davanti la legge, qui può venire a manifestare. Oh la guardia, mi firmate voi, io mi firmo io, vai su e mi dici che questi cinquanta stronti vanno presi. E va detto ai giudici, no, e loro non ci sentano. Ma gli stai a chi viaggio, buono, mi trovo qui, ancora andando in casa rasa per andare a lavorare a casa sera. E ho sempre fatto il mio, più il mio, e te lo sa. E qui è tutta gente che si è fatto un culo così lì dentro. Che lo sai? E ci siamo fatti un culo così. Non c'era feste, non c'era matrimoni, non c'era nulla, c'era solo il lavoro. Per trovarsi così. Per trovarsi così. Siamo l'ultimo cinquanta stronzi. Che ci vuole? Siamo l'ultimo cinquanta stronzi. Cosa ci vuole? Non ci vuole nulla. Ma andateci a casa e fateci dormire stavolta.